Allora, Giovanni Duns Scoto, Doctor Sutilis, nacque a Duns in Scozia nel 1266 e morì a Colonia nel 1308. Distinse gli ambiti tra filosofia e teologia. La filosofia si occupa dell'ente, di ciò che è deducibile dall'ente, e del procedimento deduttivo-dimostrativo, di una logica naturale. La teologia apre l'uomo al sovrannaturale riguarda l'ambito del procedimento persuasivo e riguarda non tanto l'ente ma gli articoli e gli oggetti della fede. Il suo orizzonte metafisico è straordinario. La metafisica, secondo Scoto, doveva partire dai concetti semplici e fondamentali e individuare il fondamento in questi concetti semplici e fondamentali di quella selva invece dei concetti complessi derivati. Quindi dal fondamento semplice e ultimativo dei concetti semplici a ciò che è fondato ai concetti complessi. C'è una semplicità ultima a cui ricondurre i concetti complessi. E questa semplicità ultima è in qualche modo ultimativa. Il concetto ultimo e semplicissimo è quello di Enz. Il concetto universale è un concetto univoco. Da questo concetto semplicissimo derivano altri concetti semplici. I concetti semplici sono tutti quei concetti che si possono solo o affermare o negare di un oggetto. Poi derivano gli altri concetti complessi che invece si possono affermare e o negare di un oggetto sotto diverse angolature, diverse modalità, diverse sfumature. Ma prima ci sono i concetti semplici e prima di tutto il concetto universalissimo, univoco di Enz. Il concetto basilare quindi è fondamentale e quello di Enz è un concetto univoco predicabile a tutte le cose che sono. Sulla base di questo concetto, di questa apertura fondamentale dell'intelletto a tutto l'essere, sono possibili poi tutti gli altri concetti e tutti i derivati modi dell'ente. Proprio sulla base del Enz univoco universale si può parlare poi di un ente finito e di un ente infinito, di un ente umano e di un ente divino, di un ente possibile e di un ente necessario, di un ente potenziale e di un ente attuale. Ma questo solo sulla base del fatto che abbiamo un ente univoco, un concetto univoco di ente, che ci dice dell'apertura universale dell'intelletto a tutto l'essere. Allora Scoto quindi dice che l'intelletto è aperto a tutto l'essere, all'essere in quanto tale. L'essere in quanto tale, universale e univoco, è l'oggetto primo e fondamentale dell'intelletto. Dopo sono comprensibili tutti i vari modi dell'essere. Ora questo concetto univoco di Enz è troppo generico, dice Dunscoto. Ecco il limite del nostro intelletto. Gli enti finiti e concreti dell'esperienza quotidiana in realtà colorano tutta la nostra vita, però sono enti contingenti, possibili, devono essere fondati metafisicamente da premesse necessarie. Ecco la deduzione dall'essere necessario all'essere contingente. Gli enti possibili, quelli della nostra esistenza quotidiana, quindi vanno fondati e sono possibili in quanto sono ma possono non essere. Le cose possibili però, dice Scoto, una volta che sono è necessario che siano nella loro possibilità, la necessità della possibilità. Quindi dal momento in cui c'è l'ente possibile bisogna trovare il fondamento di questa possibilità, che una volta che c'è è necessario che ci sia. Dov'è la fondazione della possibilità? Cioè del fatto che ci siano questi enti che sono ma possono anche non essere. Nel nulla? No, infatti dal nulla non nasce nulla. Dal possibile? No, perché il possibile è instabile, è misto al non essere. Ora gli enti possibili devono derivare e si devono fondare su un essere diverso da quello possibile, diverso da quello producibile. Si fondano infatti su un essere necessario. Questo essere necessario non agisce in virtù dell'altro, di altro, sarebbe producibile a sua volta, ma agisce solo per se stesso. Ecco che l'essere necessario, che fonda tutti gli esseri possibili, agisce per se stesso, è ultimativo, è in atto, è infinitamente potente e è necessario e fonda la possibilità del mondo, del mondo possibile che però una volta che è, deve essere fondato nella sua possibilità. Ecco che quindi gli enti possibili, proprio perché sono e possono non essere, devono avere una fondazione nell'essere necessario, e cioè in Dio. E in questo essere necessario si fonderebbe, in qualche modo si assottiglierebbe quella distinzione tra l'essere particolare e l'essere universale, secondo Giovanni Reale. Proprio perché nell'essere universale, nell'essere necessario, troviamo il fondamento di tutto ciò che è, anche se è possibile tutto ciò che è. Ma questa possibilità, non fondandosi in se stessa, richiede la fondazione in quell'essere necessario e attuale. E veniamo anche a un altro concetto metafisico straordinario di Duns Scoto, l'ecceitas, la questa cosa qua. Dio crea e conosce ogni singola creatura. Scoto sottolinea il primato e la dignità dell'individualità, dell'individua creatura, e a questo punto anche della singola persona. Dov'è quindi il principio dell'individuazione? Cioè la radice ultima, il principio ultimo, la realtà ultima dell'ente nella sua singolarità. Nella materia? No. Nella forma? Nemmeno. E nemmeno nel composto, perché questi sono concetti e principi universali. La fondazione della individualità della cosa deve essere appunto nell'ecceitas, nel questa cosa qua. In ciò, in quella radicalità, radicale singolarità di ogni singola cosa, che distingue ogni singola cosa da tutti gli altri enti, che distingue ogni ente da tutti gli altri enti. E la persona in qualche modo è la primizia della singolarità, è l'ultima solitudo. La persona è in sé, la persona non è in altro, niente può negare la sua inseità irriducibile. La persona può essere abaglio, sì, può essere cumaglio, sicuramente, ma non può essere in aglio, non può essere in altro, è solo in sé. Ha una radicale ecceitas, ha una radicale singolarità che la distingue da tutte le altre singolarità. E questa si fonda sull'atto creativo di Dio, di un Dio che crea singolarmente tutte le cose e le conosce singolarmente, proprio perché l'ecceitas è quel principio singolare che distingue ogni cosa nella sua singolarità da tutte le altre cose. E questa ecceitas ha la sua massima espressione nella singolarità della persona, che nuclea proprio quell'atto creativo singolo di Dio. Ecco quindi che Scoto fa vedere come quindi c'è il concetto universale univoco di ente che fonda l'apertura dell'intelletto a ogni possibile ente, a ogni altro ente, a ogni ente che sia divino, umano, contingente e necessario. Questo perché c'è un ente univoco alla base, oggetto primo dell'intelletto. Poi ci mostra come il mondo possibile si deve fondare su un essere necessario, su Dio, e poi ci mostra che l'ecceitas è la radice ultimativa della singolarità di tutte le cose e la sua primizia assoluta è la singola persona prodotto di quell'atto creativo di un Dio che ama la creatura, che conosce la creatura e che la crea nella sua singolarità. La rivendicazione della singolarità, della dignità di questa singolarità.